Il nostro fuoricorsa quest'oggi in diretta da Castelnuovo Berardenga in compagnia di Micole Fensi che saluto buongiorno Micole ben ritrovata. Ciao Maurizio buongiorno a te buongiorno a tutti i nostri amici di EPU TV vi avevamo presentato una puntata particolare oggi di questo fuoricorsa perché si è vero che i protagonisti di tutte le nostre storie sono i cavalli ma oggi sono qui a presentarvi un uomo che dei cavalli ne ha fatto la vita una professione e anche una grande vittoria felice di essere in compagnia di Giovanni Azzeni il TTIA. Giovanni ben arrivato. Buongiorno a tutti buongiorno è un piacere accogliervi a casa. Giovanni noi abbiamo deciso di dividere diciamo i nostri collegamenti con tutte le figure della tua professione e della tua vita il TTIA quindi questo grande fantino del palio che sei l'allenatore perché anche questo fa parte della tua professione e l'allevatore cominciamo dal grande fantino del palio il TTIA e cominciamo dalla tua storia chi è Giovanni Azzeni da dove è partito? Giovanni Azzeni è partito da bambino nel senso sono nato in Germania ho la mamma tedesca il babbo sardo la passione nasce un po' da lì mio babbo per hobby ha sempre avuto dei cavalli da corsa che si girava si giravano tutti gli ipodemi tedeschi ho imparato lì a montare a cavallo. Tuo padre è grande lavoratore no? Sì 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 sì. Una professione molto umile? Sì molto e poi all'età di 11 anni ci siamo ritrasferiti a casa del babbo con tutta la famiglia con la mamma e le sorelle in Sardegna e lì abbiamo continuato con i cavalli a fare tutti i pagliotti in Sardegna e ho iniziato a correre all'età di 13 anni. La prima volta in corsa è stato il palio di Nurri Giovanni con questa passione appunto passata al tuo papà mamma tedesca babbo sardo un incrocio visto che parleremo veramente tosto no perché sono comunque due caratteri duri diretti dritti inizia la tua passione a 13 anni sempre accompagnato dal tuo babbo ti ricordi il nome del primo cavallo che hai montato? Si chiamava Vento del Nord. Vento del Nord che in un certo senso aveva anche un motivo no? Tu arrivavi dal nord in Sardegna e di lì sei partito. E poi come arrivi a Siena? E poi arrivo a Siena vabbè mi sono fatto le mie esperienze giù in Sardegna dai 13 ai 17 anni e ho conosciuto un fantino Luigi Bruschelli che è un re di Siena al palio di Cagliari e mi ha dato l'opportunità di venire a lavorare a casa sua qui a Siena e sono arrivato qui avevo 17 anni e mezzo ho lavorato due anni a scuderia sua. Ed è dalla scuderia di Luigi Bruschelli che nasce anche il tuo soprannome no? Sì 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 i primi periodi che sono arrivato era l'inverno 2002 un inverno molto freddo e dicevo sempre Tittia Tittia il brivido di freddo e da lì si mi hanno messo il soprannome il primo palio che ho corso. Il Tittia perché ricordiamo che in Sardo quando si ha freddo si dice... Senta che ha freddo sì. Tu sei madrelingua tedesco quindi diciamo che il tuo il tuo parlare è questo però insomma anche il sardo italiano sardo... Sì dai è un mix di tutto. Non vai mai in confusione. No dai un accento un po' particolare. Tu sei giovanissimo hai 38 anni quindi sei a Siena da quando ne avevi 17 il tuo primo palio il tuo primo palio lo ricordi ricordi perché l'hai montato? Sì avevo 18 anni appena compiuti è difficilissimo entrare nel palio di Siena si doveva creare proprio una situazione particolare si è creata ho avuto questa fortuna e ho fatto anche un buonissimo palio nel senso ho dato la via al cavallo per tre giri forse non mi rendevo conto nemmeno ancora come funzionava però arrivando subito secondo e da lì ho lasciato la prima piccola impronta. La prima piccola impronta sempre in Scuderia di Luigi eri giusto? Sì. Cosa ti ha detto quando sei sceso da cavallo? No vabbè è la prima volta che forse mi ha detto bravo nel primo anno che ero lì a lavoro lui è uno che ti insegna tanto molto rigido e forse è stata la prima sera che ho detto oh sei stato bravino. Io penso che tu possiamo parlare di te Giovanni come l'uomo dei record perché in qualche modo tu hai vinto dieci pali c'è chi ne ha vinti più di te questo cianchino se non erro? Aceto. Aceto scusate aceto per cui devi ancora arrivare a vincerne quanti lui però tu hai detieni un record che forse sei l'unico fantino del palio in tutti insomma da quando nasce il palio ad avere vinto cinque pali consecutivi che sono tantissimi. Sì 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 dai vabbè io sono uno che non si arrende mai vuole sempre arrivare più lontano possibile ho fatto due cappotti a fila e vincendo anche il quinto di fila una bella soddisfazione. Allora spieghiamo cosa vuol dire cappotto a chi ci segue il cappotto è quando un fantino in questo caso del nostro Tittia vince sia il palio di luglio quindi del 2 luglio che quello del 16 agosto corretto? Quindi la vittoria di entrambi i pali qui a Siena si chiama cappotto come come allora raccontaci intanto vi raccontiamo dove siamo questa stanza e abbiamo scelto questa location perché perché è il posto che Giovanni dedica all'incontro con le contrade perché per arrivare a montare un palio c'è un anno di lavoro dietro e questo è il vostro il vostro posto dedicato dove dove parlate dove vi confrontate no dove prendete anche accordi dove succede tutto quello che poi noi in due minuti vediamo in pista. Ecco sì sì ogni contrada del palio di Siena ha una dirigenza un capitano con i suoi quattro collaboratori durante l'inverno negli anni si creano dei rapporti dove poi uno imposta il palio tra virgolette io devo vendere il prodotto a Zeni e loro cercano di corteggiarmi nel modo giusto. E piano piano si creano dei rapporti bellissimi che durano negli anni e poi portano dei frutti importanti a entrambi. Se dovessi chiederti Giovanni qual è il motivo per il quale insomma sei diventato un rappresentante di Siena perché insomma TTIA è conosciuto dappertutto. Qual è secondo te l'ingrediente principale che ti ha portato? L'ingrediente è di arrivare in questa città in punta di piedi, ascoltare sempre tutti, imparare da tutti, l'umiltà è la cosa fondamentale e poi dai valori che i nostri genitori ci trasmettono di comportarsi sempre bene con tutti, mantenere la parola e essere pronto sempre verso il prossimo. Ebbene e queste qualità, queste cose che Giovanni ci sta raccontando le abbiamo respirate, noi siamo qua da questa mattina intorno alle nove e credeteci che le abbiamo veramente respirate tutte una dopo l'altra. Adesso torniamo alla competizione perché Giovanni è un ragazzo calmo, tranquillo ma è di un competitivo incredibile e ricordiamo, vogliamo ricordare magari mandiamo anche le immagini di quando vince il suo primo palio. Raccontaci la vittoria, le emozioni e poi qual è stato l'ultimo pensiero quando sei entrato nel letto e hai abbracciato la tua compagna? Va bene, il primo palio è un lavoro difficile, non tutti riescono a vincere il palio di Siena che è veramente difficile, ne fanno solo due all'anno. Il primo è il primo, sembrava una cosa impossibile, finalmente all'ottavo palio corso è arrivata la prima vittoria, ti afferma, ti dà fiducia nel senso che puoi continuare a fare questo lavoro perché in poche parole se a Siena non riesce a vincere è difficile continuare a correre il palio. Dopo quante volte l'hai vinto? L'ottavo palio, dopo sette pali, sì, questo è l'ottavo. Wow, con Fedora, nominiamo anche la cavalla. Sì, Fedora Sala, il primo palio. Per la contrada del Loca. Sì, la sera è il primo pensiero quando sono arrivato a casa in famiglia, ce l'abbiamo fatta finalmente con tutti i sacrifici che abbiamo sempre fatto. Un gran piacere. Cosa passa nella testa di un fantino quando giri l'ultima curva e ti rendi conto che stai vincendo? Ti esplode il cuore e i sacrifici che fai nel senso per arrivare a questi risultati. In più le contrade che ti danno fiducia, le contrade per cui vinci, che nei quattro giorni ti sono stati vicini, ti hanno coccolato, ti hanno caricato e ce l'ho fatto. Ce l'ho fatto, è il primo pensiero, è questo. E adesso vorrei farvi vedere il terzo palio che Andrea, scusatemi che Giovanni, io mi confondo sempre, che tra l'altro è tuo cugino, perdonatemi. Andrea, che salutiamo, altro grande campione. Il terzo palio che hai vinto, lo hai vinto con un cavallo che ha una storia bellissima, che è ancora qua con te Giovanni, che non hai voluto lasciare, si chiama Guess. Sì, sì, il terzo palio ho vinto, penso è il più bel palio che ho vinto nella mia carriera. Un cavallo normale, però adatto per la piazza, è una mossa lunghissima e mi dovevo riconfermare. Penso ho vinto un palio degli ultimi anni, forse il più bello che ho vinto. Anche l'allenatore di questo cavallo. Questo cavallo ci aveva da quattro anni a scuderia, li volevo un bene fuori dal normale, bravissimo, ci montava sempre il mio bimbino che era piccino piccino. Guess è Guess, e ora è qui che fa la bella vita, ormai da undici anni che sta al prato con tutte le sue compagne. Ed è bello perché noi li siamo andati a trovarlo, Guess, e magari adesso la nostra regia ce lo fa anche vedere, era in un paddock gigantesco da solo, che ormai è completamente, veramente fa la bella vita. E perché è con te? Quando ha finito, insomma, quando ha corso l'ultimo palio, mi hai raccontato che si è infortunato leggermente. Sì, leggermente, un piccolo infortunio e abbiamo deciso dopo la vittoria di fermarlo, aveva undici anni e niente, dargli tutto lo spazio per fare una bella vita. Questo è Giovanni Azzeni, questo è Giovanni Azzeni, cosa intendo dire? Dietro un grande fantino, spesso c'è un lavoro particolare, e quello che mi piace raccontare di Giovanni, il motivo per il quale ho scelto proprio di parlare di Guess, è che tu, Giovanni, quello che si respira in questo posto, noi siamo a casa tua, quello che si respira è l'amore che tu hai per i cavalli, cioè prima della competizione, prima delle corse, prima di tutto questo, c'è un amore profondo che hai per quest'animale. Guess ne è una delle dimostrazioni, perché in questo posto ci sono tanti cavalli che hanno accompagnato la tua carriera, che ti hanno regalato soddisfazione e emozioni, e che tu hai scelto di tenere con te per sempre. Sì, è così, da bambino che vivo insieme ai cavalli, quando vengono qui mi dici, cosa ti rappresenta il cavallo? Un membro della famiglia, è un figlio, è questo, è l'amore, tutta la mia famiglia si amano, qui, come hai detto prima te, faccio l'allevamento, li vedi nascere, li vedi piccini, li vedi grandi, è questo, è questo. Tu hai parlato di sacrifici, hai parlato di frutto del tuo lavoro, tu, Giovanni, è molto umile, ma immagino che lo stiate respirando anche voi, al di là, no, dell'obiettivo e della telecamera. Giovanni, abbiamo parlato della sua storia, un padre, la mamma casalinga, il papà muratore, quindi una famiglia umile, una famiglia che ha vissuto i sacrifici. Tu, Giovanni, hai vissuto, che cosa vuol dire essere in difficoltà? Sei partito giovanissimo da casa, ti sei rimboccato le maniche, sei arrivato a Siena senza neanche un centesimo in tasca. E adesso hai costruito quello che è il tuo futuro, il futuro di tuo figlio, e lo hai fatto da solo. E questa forse è la più grande vittoria. Sì, questa è la più grande soddisfazione. Partire un po', tra virgolette, i miei non mi hanno mai fatto mancare niente in tutto e per tutto, e mi hanno sempre guidato verso la strada dove volevo andare. Diciamo, il sogno di realizzarsi qui a Siena, crearsi una famiglia, a crearsi un posto bello come questo, se lo posso dire. Puoi, perché è veramente un sogno. È frutto di un lavoro, di stare sempre con i piedi per terra e fare un passettino alla volta. È questo, è questa città, ma mi ha regalato tutto questo. Esiste un angolo di Siena, Giovanni, dove quando hai voglia di respirare al di fuori di questo posto magico, vai, passeggi, cioè il tuo angolo preferito esiste, oppure... Due volte all'anno a fare durante l'inverno una passeggiata in Piazza del Campo. Arrivare lì al bandierino dove sta il San Erbo, al terzo giro, sì. Quello è il... ti batte il cuore. Adesso invece io vi voglio far vedere l'ultima vittoria, l'ultima vittoria del tuo palio, che è recentissima tra l'altro. 2 luglio 2023. Quindi, insomma, il palio dove vinci con Violenta da Clodia. Che palio è stato quello? Vabbè, un palio dove ho conosciuto questa cavalla Violenta da Clodia, che l'ho montata per tre volte nel 2018, dove ho sfiorato la vittoria. Poi l'ho rimontata nel 2022, ad agosto, nel Leocorno, dove ho vinto il mio primo palio con lei, facendo il record della piazza. E me la sono ritrovata, per fortuna, in una delle mie contrade nella selva quest'anno, nel 2023, di luglio. L'ho rimontata e si è fatto un altro record della piazza. È una cavalla favolosa, un palio stupendo, in una contrada dove vincevo il mio terzo palio. Che era la contrada dell'oca. Della selva. Della selva, scusami. Giovanni, l'ultimo palio vinto, ad agosto invece ti sei fatto male? Come stai? Sì, sto benissimo, mi sono ripreso, mi sono buttato a frattura la caviglia. Stavo fermo 15 giorni, ma non si sa stare fermi. Ho iniziato subito a lavorare, ora sto bene. Va bene così. Adesso, prima di chiedere a Maurizio se ha domande per te, prima o poi di passare a tutta l'altra parte, io ho raccolto un po' di pareri. Perché tu sei timido? E tutti mi hanno detto, Giovanni è molto timido. Per cui ho voluto chiedere un po' cosa pensa la gente di Giovanni Arzemi. Speriamo bene, sono curioso. E mi sono fatta dire pregi e difetti. Ok. Quindi preparati. Vai. Allora, partiamo dai pregi. Entusiasta, è la verità? Sì, sono uno positivo nella vita, credo sempre di poter arrivare ovunque. Positivo, in qualsiasi cosa. Ho un problema e trovo sempre il lato positivo, in qualsiasi cosa. E si percepisce. Serio? Molto serio, molto serio. Penso per fare questo lavoro, ma in generale nella vita la serietà alla lunga ripaga sempre. La serietà anche di sacrificare a volte la propria vita per la professione. Sì, soprattutto nel mio lavoro che bisogna essere degli antagonisti. Più sacrifici fai, più sei incensivo nel momento che conta. Sempre avanti. Sempre, dal momento in cui stai portando avanti un progetto, pensi già a quello successivo. Sempre, sempre. Non so se è un pregio, ma a volte penso anche se è normale o se sono malato di mente. Nel senso, arriva un obiettivo che ho sognato, che volevo arrivare in tutti i modi, e subito il giorno dopo non basta. Che c'è ora, si vive di emozioni, di nuovi obiettivi. E questo è il carattere. Umile. Sì, è fondamentale, penso, in qualsiasi cosa che fai. L'umiltà è quel che ci vuole, nella vita in generale. Adesso passiamo ai difetti. Sì, oddio. Sei pronto? Allora, il primo, oculato. Spiegamelo in parola più... Allora, tirchio? No, tirchio non è vero, perché non sembra. No, vabbè, sto attento nelle... Molto attento, vero? Sì, in qualsiasi cosa che faccio. Tranne che per i cavalli, diciamolo. Sì, però poi a chi ho intorno, alla mia famiglia, ai miei cavalli, a tutte le persone che mi vogliono bene, cerco di non fargli mancare niente. E anzi, sono molto generoso. È vero, è vero. Testardo, testardo, testardo. Sì, sì. Spesso, anche se tutti mi dicono che stai sbagliando, non è giusto, devi fare diversamente, e spesso vado per la mia strada fino a quando non ci batto la testa. Però hai, in quel caso, mi raccontano, che hai l'umiltà di dire scusate, avete ragione. Sempre. Però devi arrivare, eh. Sì. Devi arrivare. Non ti rilassi mai. È una frenesia dentro la pancia che non mi dà modo di fermarmi. Anzi, dico sempre, chi si ferma è perduto. Sempre avanti, sempre avanti, senza soste. Quando abbiamo deciso di venire qua da Giovanni, la prima cosa che ci ha detto è ma io devo lavorare, io non ho tempo, io ho da fare. E questo... Vabbè, qui anche perché sono timido e non amo. Che... Purtroppo fare interviste o... È la timidezza, dai, ci trova le scuse per non farle. Però poi invece è un gran piacere. Sì, ed è vero perché ci ha accompagnato in ogni angolo di questo posto e non ci ha abbandonati mai. Gli abbiamo concesso di galoppare con un cavallo, ma è sempre stato con noi. E poi un altro difetto che mi hanno raccontato di te, ma che io non ho visto, è che non hai pazienza, è vero? Nel senso, per arrivare ad un obiettivo che ci vuole troppo tempo, devo accorciare i tempi sempre. E questo forse, perché poi per le cose giuste la pazienza c'è, dai, sì. Però voglio arrivare, voglio arrivare. Cura maniacale dei dettagli. Sempre. Penso, soprattutto nel mio lavoro a questo punto, è il dettaglio che fa la differenza. Perché siamo tutti, ognuno ormai fa il suo lavoro, soprattutto qui a Siena, come Fantino, tutti si preparano, tutti si allenano. Nessuno lascia niente al calcio. Allora sono i piccoli dettagli, secondo me, che fanno la differenza. E adesso, prima di salutarci, insomma, di chiedere a Maurizio, io, il cavallo del cuore, non importa che sia un vincitore, è quel cavallo che ancora ti fa battere il cuore quando ne parli? Del paglio o in generale? In generale, proprio il cavallo. Il cavallo è una mezzosangue, Zeta Penny, che ci ha fatto sognare, ha vinto di tutte e di più le regolari. È lei, è lei, perché piccolina, ignorante. È lei, però. Un anglo-araba, tra l'altro figlia di Murra, di Gallura, una fattrice che noi andremo a visitare, ma ne parliamo dopo, proprio quando parleremo di allevamento. Maurizio, noi ti abbiamo portato veramente un personaggio importante oggi e io immagino che tu abbia curiosità per il nostro Giovanni, per cui ti ascolta e ti diamo la linea. Innanzitutto ti ringrazio e saluto naturalmente Giovanni Azzeni, morto coliarmente, fa molto piacere naturalmente averlo qui con noi. Vorrei sottolineare soltanto il fatto, grazie Giovanni, buongiorno, ben trovato, che questa sua timidezza, questo suo modo di essere sereno, umiltà, che ha mostrato in più di un'occasione, alla fine però poi nasconde quel carattere sardo e quella tempra che ha nel DNA probabilmente teutonico che lui ha raccolto naturalmente nei propri geni. Ha una forza probabilmente più elevata di quello che si possa immaginare, cioè la volontà, quella di arrivare sempre nell'obiettivo che Giovanni naturalmente riesce ad inquadrare perfettamente come se fosse con una piccola telecamera. Questo credo che veramente sia la grande caratteristica, le grandi caratteristiche di Giovanni, almeno questa è la sensazione che traspare benedetto il suo lavoro e quello che è riuscito a fare chiaramente nel corso di questi anni. Giovanni, che ne pensi? Sì, ti ringrazio delle belle parole e sì, dai, è proprio così, è proprio così. Sai Maurizio che Giovanni è stato anche il protagonista di un film che è andato su Netflix, cercatelo, si chiama Il Palio ed ha una storia bellissima anche nell'averlo realizzato. Quello che si respira qua dentro è una magia vera, un'energia positiva che esplode da ogni angolo. Raccontacela la storia del film perché è incredibile. Nel 2012 durante l'inverno è venuta una ragazza Cosima Spender, una registra da Londra è venuta a conoscere un po' tutti i fantini del Palio quelli un po' vincenti tra virgolette se era un gruppo di ragazzi giovani chi aveva vinto un Palio chi due voleva seguire un fantino durante l'inverno è venuta a conoscere un po' tutti è venuta a conoscere anche me e io col mio modo di fare gli ho detto che sono timido che non sono all'altezza di parlare davanti a una telecamera che non è per me e poi gli ho raccontato un po' tutta la mia storia dopo una decennia di giorni che ci siamo conosciuti è tornata qui e dice Gio l'unico che mi ha colpito sei te e voglio seguire te mi ha seguito da ottobre del 2022 all'ottobre del no dell'ottobre del 2012 all'ottobre del 2013 in quell'annata lì mi ha seguito da A alla Z in tutto quello che facevo e sono riuscito a vincere i due pagli e questo film poi ha preso la via e è andato benissimo in quegli anni lì e tra l'altro nei tempi è stata anche fortunatissima molto perché sì vincendo due pagli a fila un fantino che fa cappotto che era già un po' di anni che non succedeva è stato è stato veramente veramente bello e ti seguiva ti ha messo microfoni dappertutto telecamere con proprio beh tu sei timido è vero Giovanni ma hai una capacità di trasmettere che è incredibile per cui la regista ci ha visto lungo assolutamente Maurizio sì un'altra curiosità ovviamente a Giovanni anche perché ha detto che praticamente Gigi Bruschelli Trecciolino lo ha messo in sella quanto gli è servito un prospetto come naturalmente Trecciolino che è stato chiaramente un grande fantino del palio un nome importante fra le altre cose nel libro I tre assassini Gigi Bruschelli dice che praticamente quando entro in Provenzano stavo cercando lo sguardo della persona che mi stava portando in trionfo ma non ho visto nulla perché avevo talmente una folla sotto di persona una moraglia umana che non sono riuscito a vederlo vorrei capire quanto è servito naturalmente Gigi Bruschelli a TTA Giovanni Azzeni e soprattutto se lui ha potuto vivere avendo vinto chiaramente tanti pali un'emozione una sensazione di quel tipo che ha raccontato proprio nel libro appunto Gigi Bruschelli Giovanni Sì sì vabbè il mio incontro io ho sempre detto che sono un ragazzo molto fortunato penso all'età di 17 anni ho incontrato la persona più importante del Paglio la persona più giusta in poche parole mi ha insegnato tutto mi ha insegnato tutto lui mi ha approcciato nel modo giusto a questa città veramente mi ha insegnato tutto numero uno li dovrò sempre lo dovrò sempre ringraziare per tutto quello che mi ha trasmesso e quello che mi ha insegnato ha belle emozioni sono tantissime ora una in particolare non lo so diciamo il primo il primo cappotto del 2013 d'agosto che ho vinto un altro bellissimo Paglio nel momento che arrivo e tutta la piazza che era intorno a me e mi sono sentito ce l'ho fatta ho fatto il mio primo cappotto personale ho provato un'emozione unica in quel momento lì abbiamo cambiato location con il nostro Giovanni Azzeni vi abbiamo parlato di mille sfaccettature di un campione allora adesso vi presentiamo una parte del team Azzeni avrei voluto questo collegamento farlo con la compagna di Giovanni di Ilaria che è veramente una grande donna accanto a un grande uomo sono due entità separate importanti fondamentali per questa scuderia basta con la storia dietro a un grande uomo c'è una grande donna Ilaria è una grande donna a fianco a un grande uomo è vero Giovanni? sì sì da Ilaria è ormai 20 anni che siamo insieme mi ha seguito in tutte le mie passioni è appassionata tanto anche le dei cavalli io dico sempre le donne sono di un'altra categoria non ha marcia in più e in tante cose mi ha fatto fare veramente la differenza sia nel mio lavoro sia nei cavalli da corsa perché è lei comunque che se ne occupa e li cura noi iniziamo la passeggiata all'interno della tua scuderia presentando i campioni allora partiamo da lui lui è Beniamino un cavallo di 6 anni che va in 7 15 corse all'ippodromo ne ha vinte 11 ha vinto 6-7 gran premi un piccolo campione della patrice Murra di Gallura sì un piccolo campione perché ricordiamo che il team Mazzeni presenta i cavalli in pista voi vi occupate di vi occupate di allenare gli anglo-arabi quindi qui sono tutti anglo-arabi sì e allora chi abbiamo Giovanni? Anacleto Anacleto anche lui ha delle bellissime prestazioni all'ippodromo quest'anno ha fatto le sue prime monte durante l'inverno l'ho appoggiato a Chiara Peppi per fargli fare qualche monta come stallone e ha ingravidato 7-8 fratrici quindi anche lui un grande campione in pista sì e lui chi è? lui è il fratellino piccolo eclettico ha diputato quest'anno una vittoria e qualche piazzamento carino dai ancora deve è un po' tardivo deve ancora esprimersi e adesso visto che insomma il team Mazzeni diciamo che è presente un po' dappertutto ma proprio domenica hai vinto di nuovo un premio importante e lo hai vinto con lui perché nella rassegna svoltasi proprio a Siena degli anglo-arabi il team Mazzeni vince il primo premio per i maschi dei due anni sì e con un cavallo che si chiama si chiama Frenkie 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 D si era mandato all'unire invece Frenkie è un puletro sempre di Murra di Gallura e Saki Secret bellino fatto bene fisicamente corretto di gambe grigio ha vinto il primo premio sia la rassegna dei maschi allora il grigio e il bianco è il colore predominante a casa a Sieni in questo podere sì diciamo vabbè la fattrice li dà tutti i grigi e vanno tutti bene e li accettiamo volentieri sono belli cosa ti ha portato lui chi è? lui è cuore impavido cuore impavido cuore impavido anche lui sempre fratello di tutti questi campioni e anche lui siete primi all'ippodromo su 15 corse fatte ha portato dei buoni frutti dai avete iniziato questa avventura proprio del di allenare i cavalli anglo-arabi di portarli negli ippodromi un'avventura che insomma avete cominciato con questa meravigliosa fattrice che è Murra di Gallura e avete avuto risultati importanti qual è il segreto Giovanni se ci può essere un segreto il segreto diciamo che durante il covid mi sono trasferito solo a fare l'ippodromo cercando di migliorarmi in tutto e per tutto alimentazione allenamento e tutto quanto e in più i frutti fatti dalle fattrici sia le pure che la fondo alabo Murra di Gallura cavalli cavalli fatti in casa diciamo sono stato fortunato e ho azzeccato gli incroci e le fattrici giuste questo quando prima parlavamo di quelle che sono le tue caratteristiche mi hanno detto di te che tu sei sempre avanti Giovanni e questo è stato uno dei motivi per il quale me l'hanno detto perché tu durante il covid chiaramente il palio era fermo era tutto fermo e hai scelto di coltivare magari una strada che non era in quel momento stata coltivata e lo hai fatto raggiungendo dei risultati importanti sì sì dai diciamo il comportamento in generale in tutto l'ambiente che forse anche quello aiuta trovare i fantini giusti e l'appoggi giusti uno è questo due potevo dire benissimo non c'è il palio mi fermo o una mattina quando ci hanno chiuso in casa ho detto ai miei ragazzi che ho al lavoro ci si butta a capofito alle regolari bisogna arrivare a raggiungere l'obiettivo di tot soldi durante l'anno e loro mi hanno detto madonna ma si è lavorato con delle scuderie serie anche noi e nemmeno le scuderie serie sono arrivate a questi risultati ho detto vabbè o si fa per bene o non si fa per niente quindi in poche parole siamo arrivati ben oltre a quella cifra e da lì i risultati quando arrivano ti invogliano a continuare a continuare siamo andati a migliorarsi anno per anno che veramente è mezzo sangue negli ultimi 4-5 anni si è vinto si è vinto tutto quello che si poteva vincere e grazie anche a queste piste noi camminando camminando siamo arrivati proprio tu ecco tu ti alleni il Tittia si allena qua e così come allena qua i suoi cavalli diciamo che qui mi alleno io sì la mattina con i cavalli da corsa c'è una pista piccola per riscaldarli la pista grande per galoparli e poi qui vicino c'è una salita di 1800 metri dove andiamo allungarli una volta a settimana e Giovanni per il suo lavoro si allena anche fuori in campagna nelle crete senese che sono qua vicine che sono bellissimi a pelo con i cavalli da sella dove tutti i pomeriggi usciamo e ci facciamo la nostra galopata nelle curve brutte nelle discese questo è un allenamento più per me per gestire quindi poi il tutto per il palio tu monti a pelo ti abbiamo visto comunque anche proprio durante i tuoi allenamenti mattutini montare a pelo si cavalli da corsa cerco di mettere i copertini di tenere sempre il sederino bellino leggero per non fargli male alla schiena però si sempre a pelo sempre a pelo tanti copertini mettete sottopancia quindi copertini belli alti e sottopancia per evitare quindi di dargli colpi sulla schiena questo e poi a trottare di solito si batte la sella come se avesse le staffe bene e allora dalle piste noi continuiamo la nostra passeggiata e ringraziamo intanto la super paola che ci segue in questo in questo posto meraviglioso si respirano davvero energie positive Giovanni e i risultati si vedono abbiamo visto i tuoi cavalli sono tutti cavalli sereni cavalli di due anni gestiti con la capezza quindi tu non non usi mai niente di coercitivo e la prima regola quando qualcuno arriva la prima regola quando qualcuno arriva a lavorare per te qual è? mai una violenza contro un cavallo acchiappate morsi acchiappate calci acchiappate le codate nel muso però la violenza non ci deve essere nel senso purtroppo tutti i cavalli viziati tutti i ragazzi che lavorano in alto si lamentano però secondo me alla fine sono cavalli che in tutti gli ipodromi stanno chiusi 22 ore nel box e stanno fuori un'ora e mezzo due ore se poi quando entra l'uomo il cavallo si deve girare mettersi in un angolo tra virgolette sottomesso no è una cosa che non accetto liberi ecco e questa è tutta quella parte io sono spesso in televisione parlo Giovanni di romanticismo no parlo di storie parlo di energie è questo che intendo sì perché poi raccogli no chiaro chiaro uno penso cavallo ti dà anche qualcosa in più in base a come lo tratti strullata forse che dico però trasmettendoli quell'amore giusto quando c'è il bisogno poi qualcosa in più danno questa è la mia filosofia anche la mia e non è una strullata questo vedi questo lo hai detto in toscano Giovanni abbiamo mischiato non è una strullata ma è una grande grande verità perché perché il cavallo ti restituisce quello che quello che tu dai e c'è poco poco da dire e soprattutto riesce a gestirli meglio no perché poi è chiaro anche nei pali o comunque tutti i cavalli sereni che non hanno paura di niente che si fidano dell'uomo diriggiamo verso murra di gallura fattrice non so se possiamo riusciamo ad entrare dentro sì 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 Giovanni tutto live tutto in diretta perché perché murra di gallura è una fattrice importante la prima fattrice che Giovanni ha avuto giusto Giovanni tu murra di gallura oltre a essere la tua migliore fattrice ha una storia veramente particolare è una cavalla una delle tue cavalle del cuore raccontaci perché sì perché all'inizio quando poi mi sono messo per conto mio sono andato in Sardegna a cercare un po' di cavalli d'appaglio tra virgolette c'è la murrina di gallura che fisicamente era anche giusta per la piazza in più mi piaceva la genealogia l'ho comprata ha fatto un po' di provincia e detto quanto quanti anni aveva? lei aveva un anno quando l'ho presa sì un anno ha fatto un po' tutte le corse in provincia comportandosi per Benino però al Paglio di Siena non c'è mai arrivata perché era fina di stinchi e non rientrava nelle misure e a quel punto perché esistono ecco spiegacela questa cosa devono avere delle misure delle misure sì non devono superare un metro e sessantatré e avere minimo diciannove e mezzo di stinco eccola la murrina la chiami? la murrina e niente subito presto abbiamo iniziato a fare i primi prodotti eccola qua i primi prodotti quindi è con te da quando ha un anno sì ora ne ha 18 cioè il bianco è il colore è il tuo colore ti abbiamo visto vincere dei pali con cavalli bianchi Guess è bianco lei è bianca la puledrina Roana sì sì questa è la figlia di helmet la figlia di helmet bellina 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 è nata presto a febbraio marzo e sicuramente promette bene dai fiduciosi fiduciosi come sempre sempre per quanto riguarda l'allevamento hai iniziato diciamo scegliendo genealogie sicuramente discrete però comunque più abbordabili sei partito dal basso come ami fare in tutto Giovanni però adesso insomma stai spingendo sull'acceleratore sì sì io seguo molto i cavalli in Germania ho comprato delle fattrici alle aste in Germania e da lì piano piano ci ho fatto mezzo sangue e mi hanno dato tutti dei frutti dei frutti importanti ora il sogno rimane in futuro di investire in una puro sangue veramente da corsa e fare dei prodotti puri per vedere di riuscire anche entrare in quel mondo lì qui hai già un puledrino puro sangue però non ne sei tanto soddisfatto no sì è bellino bellino è il primo prodotto bisogna fare in silenzio e vedere che viene fuori però no è carino è molto carino lo mettiamo dentro le prime di novembre si inizia domandolo e si guarda di che pasta è fatta il cavallo puro sangue mi hai detto prima mentre gironzolavamo per la tua scuderia che è un cavallo che ti piace particolarmente perché ha ha un carattere diverso dagli anglo arabi no? sì diciamo va bene il mezzo sangue anno per anno l'allevamento si migliora e sono cavalli giusti anche in mezzo sangue però il puro sangue è troppo più intelligente in tutto e per tutto è avanti è avanti è il cavallo vero da corsa con lei hai un rapporto speciale si vede sì mi ha rotto anche il naso qualche anno fa mentre avevamo messo il microchip al puledrino quando l'ho riportata fuori nel campo pioveva c'era un temporale lei si è spaventata e mi ha dato una testata mi ha rigirato il naso e c'è questo rapporto di amore puro di amore puro ci ha dato le soddisfazioni fuori dal normale come fai a ritirarti su dopo ogni caduta perché insomma tu i fantini del palio immagino che siano su con lo scotch perché insomma quanti infortuni hai subito Giovanni? sì un po' dai un po' ma niente mai mai di grave nel senso è uno si deve ritirare sempre su e e tu lo fai sempre 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 positivi se qualcosa di strano succede e dico ma sono sempre stato strafortunato ci sta che una volta una piccola un piccolo inciampone c'è e allora è questo il modo giusto per andare avanti per ritirarsi sempre su ti ritieni un ragazzo fortunato Giovanni? sì in tutto e per tutto in tutto e per tutto ecco se io dovessi chiederti per esempio qual è la tua più grande fortuna tu cosa cosa mi dici? la mia più grande fortuna vabbè è la mia famiglia i genitori è la mia famiglia che ho creato qui ho sempre trovato le persone giuste in qualsiasi cosa diciamo che con umiltà lo dico ma ho sempre inquadrato le persone giuste quelle tenermi tenermi vicino e ascoltare consigli loro persone più anziane e questo nella vita mi ha fatto mi ha fatto la differenza sì mi hanno dato sempre consigli giusti mi hanno guidato e piano piano sono arrivato un po' a tutti i sogni tu e Ilaria avete un figlio sì che si chiama Mattia che cosa vuole fare da grande Giovanni caratterino tosto diciamo carattere che mi assomiglia tantissimo ma non è timido no 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 e lui monta monta cavallo monta sella monta pelo ho fatto tutte le corse dei poni all'età di 12-13 anni vuole fare questo lavoro ma noi io e Ilaria si cerca in tutte le maniere di guidarlo verso verso altri fronti però è determinato il ragazzo però quel che dico sempre io provo delle emozioni fortissime sulla mia pelle e le sopporti bene e senza di cui senza quelle emozioni lì non potresti vivere tra virgolette però subirle da un figliolo no non esiste cerco veramente di farli fare qualsiasi altra cosa ma non non il fantino del paglio tuo padre invece come le ha vissute queste emozioni e come le vive tuttora la mamma tedesca un po' più fredda il babbo sardo altri altri tempi altri tempi loro mi hanno veramente seguito da quando ero bambino piccolino a portarmi nei pagliotti dei poni a crescere in tutti i pagli in tutti i pagli e va io grossi complimenti non le fanno mai ma penso che 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 mi amano in tutto quel che faccio davvero e mi stanno vicino mi appoggiano sempre in qualsiasi cosa in qualsiasi cosa che ho voluto fare mi hanno dato fiducia e e me l'ho lasciato me l'ho lasciato fare quando invece mi parli della preoccupazione da genitore della paura che hai quando vedi tuo figlio a cavallo ad esempio secondo te è una preoccupazione che hai preso più dal papà più dalla mamma è una preoccupazione che nasce con Giovanni come padre nasce con Giovanni anni come padre sì sì dai altri tempi oggigiorno il bambino a 15 anni se va a farsi i capelli lo accompagno invece all'età mia a 9 anni andavi da solo a giro con la bicicletta è troppo cambiato il mondo in generale è questo forse che mi dà un po' di freno poi è un lavoro difficile che non tutti arrivano a fare quel che ho fatto io forse se non arrivi a questi grandi risultati sono più le sofferenze che le gioie cosa ha di te tuo figlio cosa rivedi in lui purtroppo rivedo il talento lo vedo perché da piccolino che monta pelo e uno quando ha un figliolo i genitori dicono è bravo a fare qualsiasi cosa io vorrei dire il contrario non ha il talento invece purtroppo ha il talento e poi non ha non ha freni si butta sempre oltre l'ostacolo e dopo ci pensa ma prima si butta è questa cosa qui penso per un fantino da paglio è quella marcia in più che deve avere ti dà consigli su cavalli come montare si spinge lui è sempre in competizione nel senso lui dice che gli altri fantini sono più bravi del babbo sempre è terribile bravo di te questo ti fa il mazzo non lo so se lo fa per stimolarmi o si è tremendo tra maschi tra padre e figlio la competizione è tremendo è tremendo Mattia si invece di Laria cosa ha preso secondo te oddio l'aria è molto sotto alla grande sensibilità quindi Mattia Zeni preparatevi il soprannome verrà non lo deve avere è bellissimo intanto murrà cioè cavalla socievolissima stupenda stupenda veramente 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 tanta tanta bellezza in questo posto i tuoi prossimi progetti allevatorialmente parlando puro sangue abbiamo capito si vogliamo provare fare questo passo abbiamo iniziato con una affatrice normale però sarebbe il sogno di comprare qualcosa di serio e provarci per gli anglo-arabi per gli anglo-arabi vabbè ho la murrina e ho trovato un'altra affatrice sempre fila di bombolino che lei era fila di bombolino penso lo stallone più importante del mezzo sangue e ho qualche pura si continua e allevo tre o quattro prodotti all'anno che mi servono per il mio lavoro per l'ipotamo per quanto riguarda invece la versione Tittia la versione Tittia ora c'è l'inverno si parte con tutte le strategie se si possono chiamare così per l'anno prossimo incontri su incontri e impostare tutta l'annata per fare meglio nel 2024 ancora meglio di adesso sempre battere il record di aceto è un obiettivo ma l'obiettivo io non voglio dico sempre che non sono i record che rincorro voglio fare qualcosa che accontenta Giovanni nel senso mai fermarsi e andare oltre a ogni record wow questo è Giovanni Azzeni questo è Tittia questo è l'Azzeni Team questo è l'allevamento Azzeni insomma sei un uomo di cavalli a 360 gradi sei una persona me lo avevano detto devo essere sincera sono arrivata preparata ma non pensavo non pensavo così tanto ti ringrazio Maurizio io davvero potrei parlare di qualsiasi cosa ma il tempo stringe anche perché abbiamo insomma un appuntamento con EcoTV in campo tra poco quindi non so se hai voglia di toglierti qualche altra curiosità qua piove ma noi l'acqua non la sentiamo è inevitabile inevitabile innanzitutto vi ringrazio naturalmente per averci regalato questa splendida questa magnifica cartolina da Castelnuovo Berardenga che è un posto molto speciale soprattutto dalla location che ci ha che ci offre che ci ha ospitato naturalmente Giovanni Azzeni perché aver visto questi cavalli liberi aver visto la prolifica mura di Gallura in mezzo a voi è un po' una sorta di nostra linea verde davvero davvero splendida l'ultima considerazione che vorrei fare con Giovanni naturalmente è quella che Mura di Gallura Mura di Gallura dobbiamo dire ha preso in modo particolare da quell'imprinting grigio bianco di Bombolino e Teresa Gallurese no Giovanni sì 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 io sono stato a visitare giù da Massimiliano Narduzzi ora lei è un po' invecchiata il fisico mi sta cedendo un po' però è uguale al subabbo è uguale al subabbo stiamo ridendo Maurizio perché abbiamo il puledrino di Mura di Gallura che sta facendo grooming con la nostra Paola e sta annusando vedete ha annebbiato anche la nostra reflex ma è bellissima perché è bellina ma da morire ma poi è curiosa è particolare e con il fiato della puledrina di Mura di Gallura Giovanni io grazie guarda guarda è stato un piacere vi ringrazio grazie anche se non sono di troppe parole ma è stato veramente un gran piacere davvero un onore onore nostro grazie davvero di averci aperto le porte di casa tua perché vi ricordiamo che qua siamo proprio a casa di Giovanni e dei suoi meravigliosi cavalli Maurizio grazie da Castelnuovo Berardenga da Siena dal team Mazzeni è davvero tutto grazie a tutti grazie a tutti